Bella a tutti raga, bentornati di nuovo nel mio canale Ciao Dopo due mesi più o meno? Due mesi Nel partempo io sono d'amora praticamente Si, ha cambiato un po' look Vabbè Eh, racconta cosa facciamo oggi Che è un giorno molto divertente per me Perché? Perché mi divertirò Vabbè praticamente Dovrò guardare un video Di 30 ragazzi di TikTok Di mezzo Insomma, che badano Si, TikTok e TikTok Quindi sapete come funziona Quella app Vabbè insomma Ogni volta che se sguardo praticamente non cadrà Sul viso ma su altre cose E come lo fai a vedere? Ti guardo ovviamente, lo guardo là Guardo te Ok Mi tiro un pugno praticamente Ok Guarda che ti ho già visto che hai passato lo sguardo Ma lo sto guardando giù Si, ti ho guardato la pancia Perché è piatta Sì Ma sento niente comunque Vabbè non è che tu debba sentire Vabbè ci dirà che la musica Io ti sento in tutti i casi Ma perché non ho fatto niente Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Vabbè qua non c'è niente Ben qui Sì ma certo che la cosa sono brutta da te Sì ho capito Sì ho capito Cosa ridi? Eh magari faccio gli addominani? Sì certo Sicuramente tu guardi lei che sta facendo gli addominani Questa è niente questo? Non lo so Secondo te lo so Non mi interessa Non muovere Anche questo è sicuro che ti interessa quegli anni No questi non No i fatti gli occhi si però Cosa cagli occhi? Cosa ridi? No mi perderà per scendere questo video Perché ti cade l'occhio per caso? Eh? Vabbè un video Cosa c'entra? Guarda che ti vedo che gli abbassi gli occhi Ma non ho fatto niente adesso Tu le guardi a per scendere Questa poi figurati Sì ma la faccia è piotto Ma questa cima è guadagno Sì ma la faccia è ok però Sì ma fa schifo Sì ok però Questa non ti abbiamo guardato la scala di fianco Ma io guardo tutto e ti ho detto Asiatica o no? Ma se ti vuoi Sì ma non di asiatica Sì perché ho visto io Di asiatica Beh qua non hai guardato sicuramente la scambia dietro Vabbè che posso farci L'hai guardato lei? Cosa c'entra? C'è la scambia dietro Perché devi guardare la scambia? Cosa c'è la scambia dietro? 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 Cosa c'è la scambia dietro Che ti piaccia per scendere!? Cosa c'è la scambia dietro? Che non è che devi guardare la faccia. Eh, io guardo anche la faccia. Qua guardi la faccia. Guardo anche la faccia. Qua guardi la faccia in primo. Guardo anche la faccia. Non in primo. Cos'hai guardato, scusa? La faccia? Vabbè. Cosa? Come qua, guardi la faccia. Sì, ma è brutta. Ma cosa c'entra? Ma non guardi la faccia. Sì, ma guardo tutto in sé. Fa schifo. Non ci credo, non è? No, non ci credo, perché è impossibile che tu guardi la faccia in questi video. Ma guardo anche la faccia. Ma la guardi dopo, prima non ti crederanno da parte. Io guardo la testa e i piedi. Cosa gli dici? Cosa? Cosa? Manda. Come cazzo chiama questa canzone? Questa cosa non ho capito, però è vero. Vabbè, questa non ti ti piace, ok? È brutta. Qua guardi gli occhi. Guarda anche la faccia. Ma porca miseria. Ma non ci credo niente. Ma non ci credo allora. Ma non ci credo. Ma avrei visto anche la faccia, ma non è possibile. Ho visto la faccia, ma ho visto anche altro. Quello sì. Anche qua. Bisogna vedere anche dall'avanti. Bisogna vedere anche dall'avanti. Ma non si fa vedere dall'avanti. Eh vabbè, casi sui. Dopo, cos'altro? Cos'è quella cosa che hai fatto? Coco! Coco! Cosa hai fatto? Ti ho visto? Ho fatto così. Appunto. Ah, perché non gli starei nei menti? No, in realtà no. Questo ti piace perché è Mario. Sì, ma vabbè, devo vedere anche la faccia, porca puttana. Mi piace. Parlo dei figli con questi casi. Eh, ma no, guardo solo il fisico io. Guardo tutto in sta, non lo sai. Qual è la tua testa? Perché? Dopo questo video. Che fiuo. Sì. Il pesazzo. Infatti sto guardando il pesazzo. Sì. Non mi interessa un cazzo. Ma sei furbo, bro. Ma che sei a fare il furbo? Anche qua. Bello il pesazzo lo porta indietro. Vero? Finito? Beh, ovviamente ha perso scudolatamente, quindi... Sì, ma è vero. Avrei dovuto picchiarlo per tutto il video, comunque. Sì, ma... Comunque, non è che guardavo solo... Dalle tette alla... Ste donne. Eh? Ste uomini se vuoi? Ste donne... Ste uomini se vuoi... Beh, non è capace, è troppo etero, però non te la fa. Vabbè, a parte quello, comunque... A lui cade l'occhio sempre. Sì, ma non di sicuro non faccio robe con altre ragazze. Beh, saresti già single e castrato. Detto questo... Spero che il mio video vi sia piaciuto. No. Solo se siete maschi vi vorrebbe essere piaciuto questo video. Beh, dipende. Lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!